Ciao a tutti amici di Eximardure.com e ben ritrovato a due nuovi unboxing. Quest'oggi abbiamociuto in redazione la K65 RGB Rapid Fire. Rapid Fire è la nuova serie di tassiere meccaniche del brand californiano. È un nome scelto non a caso in quanto il modello K65 oggi in questo unboxing e durante la recensione e il modello K70 sono dotati dei nuovi switch meccanici CRMX Speed. Questi sono caratterizzati da una corsa di soli 1,2 mm che in gioco si traduce in una maggiore reattività. Quindi la serie Rapid Fire è sicuramente indicata ai videogiocatori di FPS o comunque coloro che richiedono un'elevata reattività in gioco. Partendo dalla confezione troviamo l'immagine illustrativa del prodotto con i vari riferimenti e le caratteristiche. Riferimenti e le immagini che sono riportate sia nella parte frontale sia nel red della confezione stesso, come sempre insomma. All'interno troveremo una warranty guide, una quick start guide classica manualistica, un classico watch a polsi in plastica con una finitura superiore gommata, soft touch che migliorerà il comfort di digitazione, dei caps di ricambio con l'estrattore e immancabile. Sono i soliti caps in plastica ABS con una finitura superiore gommata che migliora il grip sui principali tasti per giochi FPS e MOBA. Infine troviamo la tastiera, la Corsair K65 RGB Rapid Fire o semplicemente K65 Rapid Fire. Come notiamo il design rimane sempre molto elegante grazie a una colorazione total black e anche a una struttura superiore in alluminio spazzolato. Questa conferirà anche una notevole solidità alla struttura della tastiera stessa. Il layout di digitazione come potete notare è italiano, anche Corsair si sta specializzando, comunque ci tiene molto al mercato italiano e quindi ha deciso di proseguire l'adozione di questo layout che farà la gioia di moltissimi utenti. La K65 come notiamo è una tastiera in formato TKL quindi priva del tastiero numerico. Troviamo comunque dei tasti multimediali, principalmente dai tasti F9 a F12. Ovviamente li potremo attivare con la combinazione FN più il tasto di nostro interesse. La barra spazzatrice come sempre è dotata di una superficie gommata, anche questa. Nella parte superiore troviamo il logo della Corsair in alluminio. Il tasto per attivare e disattivare l'illuminazione, il tasto per attivare e disattivare il volume, per diminuire e aumentare il volume, il classico Windows Lock per disabilitare il tasto Windows in gioco e quindi impedire un ritorno al desktop. Passando al retro della tastiera troviamo una superficie e una struttura in plastica, classici piedini in plastica nella parte superiore che potremo rialzare per agevolare la digitazione. Nel caso troviamo quattro piccoli e sottili piedini in gomma per permettere di mantenere salda la tastiera sul piano di lavoro. Nella parte inferiore troviamo anche le scanalature per inserire i ganci del poggiapolsi. Mentre passando nella parte superiore possiamo notare la porta USB pass-through e uno switch a quattro posizioni, con scritto BIOS, però in effetti è semplicemente uno switch che ci permetterà di regolare il polling grid, ovviamente fino a 1000 Hz. Lateralmente possiamo notare sempre una struttura rialzata degli switch e dobbiamo dire che i CRMX Speed non sono altro che, tra virgolette, una controparte dei CRMX Red con una corsa ridotta. Come possiamo sentire il rumore generato è sempre davvero minimo, quindi sono adatti sicuramente per la scrittura, anche se a dire di molti i RED non sono così ideali per la scrittura, ovviamente è questione di abitudine e di gusti. E come al solito troviamo il cavo rivestito in treccia di tessuto e troviamo due porte USB di cui una servirà a gestire quella la pass-through presente nella parte superiore della tastiera. Tornando velocemente ai switch meccanici, vi mostriamo il rimuovimento on-caps, il nuovo colore, un colore grigio per lo switch, e una struttura trasparente sempre per lo switch stesso che ci permetterà di irradiare meglio l'illuminazione RGB di cui la RapidFire, K65 RapidFire, si caratterizzica. È una tastiera ovviamente che si può interfacciare con i software di gestione Corsair Utility Engine, il quale ci permetterà non solo di creare macro e di assegnarle ai diversi tasti, ma anche di creare nuovi effetti e nuovi profili di colore o di scaricarne di altri direttamente dal sito della Corsair. Con questo è davvero tutto, vi rimaniamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.extremardure.com dove troverete ovviamente maggiori immagini e approfondimenti e i nostri test. Con questo è davvero tutto, un saluto a tutto lo staff. Grazie a tutti.